Immagina di aver scoperto una pietra su cui sono incise antiche parole, una storiella che inizia con toc toc e ti invita a rispondere chi è? Che scoperta formidabile! Ma a sorpresa gli scienziati concludono che deve essersi formata attraverso processi puramente naturali, fisica e chimica che agiscono su una roccia e nient'altro. Cosa? Ti servono linee e forme molto specifiche per formare le lettere, che devono poi essere disposte in un ordine molto preciso per ottenere anche solo una brutta barzelletta. Toc toc chi è io? Beh, se lasci una roccia esposta al vento e alla pioggia abbastanza a lungo, alla fine otterrai una storiella che inizia con toc toc. Nessuno ci crederebbe. Eppure, questo è il tipo di spiegazioni utilizzate per l'origine della vita. Ma la vita non è una barzelletta toc toc. Ci sono stratificazioni di complessità che dovrebbero unirsi per dare il via alla vita. Per avviare la vita ci servono i giusti elementi costitutivi, in alte concentrazioni e purezza, combinati nel modo giusto nonostante l'insieme quasi infinito di molecole indesiderate che i processi naturali generano. Il tutto raccolto all'interno di una membrana che tenga dentro ciò che è buono e fuori ciò che è nocivo, che mantenga l'omeostasi, che sfrutti l'energia da una fonte costante e controllata. Il tutto va aggregato prima che le singole parti scadano. Anche se potessi fare tutto questo e non puoi, ancora non saresti nemmeno lontanamente vicino all'inizio della vita, perché la vita richiede almeno un altro ingrediente importantissimo e molto difficile. L'informazione Paul Davis e Sarah Walker, professori di fisica teorica presso l'Arizona State University, hanno detto che sebbene sia notoriamente difficile identificare con precisione ciò che rende la vita così distintiva e straordinaria, c'è un accordo generale sul fatto che l'aspetto informativo è una proprietà cruciale, forse la proprietà cruciale. Ma cos'è l'informazione? Da dove viene? Cominciamo! Da dove viene l'informazione? Semplice madre natura può creare informazione. Vero, ma la natura può creare alcuni tipi di informazione, come ad esempio l'informazione illusoria. Quando vediamo forme nelle nuvole o un volto nelle onde, in realtà non sono lì, si tratta di pareidolia, illusioni create dalla nostra immaginazione. Non c'è un tacos in quella nuvola. La natura può generare informazioni ripetitive o deterministiche, come i cristalli di sale, i fiocchi di neve o gli strati sedimentari. Queste strutture sono belle, ma completamente determinate dalla fisica. Quelle forme devono essere come la fisica richiede. La natura può anche produrre informazioni indiscriminate o non specifiche. Pensa al rumore di fondo, al suono di una cascata o del vento che soffia in un canyon. Se incappiamo in questi tipi di informazione, potremmo facilmente spiegarle come naturali. Non avremo bisogno di cercare altre spiegazioni. Di contro, sappiamo che la natura non può produrre una storiella toc toc, o il discorso di Gettysburg del presidente Lincoln. Queste non sono informazioni illusorie, ma reali. Non sono semplici schemi ripetitivi. Non c'è nessuna legge fisica che dice questa parola deve seguire quell'altra. Molte più parole avrebbero potuto essere incluse, ma non lo sono state, e servono a qualcosa, farci ridere o informarci. Sappiamo intuitivamente che questo tipo di informazioni, disposizioni specifiche di parti indipendenti in modalità complesse, vanno oltre le capacità produttive della natura. In altre parole, se trovassi il discorso di Gettysburg in un bosco, anche se non sapessi come è arrivato lì o chi lo ha scritto, sapresti che c'è stato un autore. Questa o quella categoria? La domanda fondamentale è questa. Il DNA è più simile ai cristalli di sale e al rumore di fondo o al discorso di Gettysburg. Gli scienziati sanno da anni che il DNA è un codice di informazione usato per produrre le proteine, i minuscoli macchinari della vita. Ma stiamo continuando a scoprire come il DNA contenga molte più informazioni oltre a quelle per la codifica delle proteine. Il DNA regola e controlla anche quali proteine vengono prodotte e quando. Sembra una cosa da poco, ma non lo è affatto. Immagina di essere un piccolo escherichia coli. Ti viene fame e vuoi fare merenda. Il tuo snack preferito? Zucchero, ovviamente. Ci sono due tipi diversi di zucchero che potresti mangiare, ma tutti sanno che il glucosio è più gustoso del lattosio. Mangiare questi due differenti tipi di zucchero richiede due differenti tipi di macchinari. Come mangiare la zuppa richiede ciotola e cucchiaio, mentre gli spaghetti richiedono piatto e forchetta. Se fosse il giorno della zuppa non vorresti sprecare energie creando piatti e forchette. Sei un batterio furbo, sai che sprecare energie ti debiliterebbe, quindi sai di dover disattivare la produzione di piatto e forchetta quando non ti serve. Questa è una regolazione fondamentale, perché altrimenti la tua preziosa energia verrebbe spesa per produrre forchette, cucchiai, spatole, vaschette per il ghiaccio e moriresti. Nel DNA abbiamo una libreria di progetti per tutti gli strumenti che possiamo costruire, ma non possiamo costruirli tutti, oppure volenti o nolenti moriremmo. Quindi nel DNA ci sono anche informazioni per costruire proteine regolatrici e piccole stazioni di aggancio che gli permettono di attaccarsi al DNA. Normalmente quando il glucosio è disponibile piatti e forchette non vengono fabbricati, è il giorno della zuppa. Ma se c'è solo il lattosio, la sua presenza viene rilevata da una proteina regolatrice, provocandone il distacco dal DNA. In questo modo viene sbloccato il codice per costruire macchinari per il lattosio, piatti e forchette. Il sensore per il glucosio funziona al contrario. Quando non rileva il glucosio, si lega ad una parte diversa del DNA per comandare la costruzione dei macchinari necessari per il lattosio. Quindi la regolamentazione della costruzione delle proteine è un ulteriore livello di informazione richiesto per avere l'origine della vita. Ma aspetta, c'è di più! Queste proteine regolatrici hanno le proprie regioni regolatrici, codice aggiuntivo nel DNA per controllare la loro produzione. Il DNA ha un codice per regolare il processo regolatorio e può addirittura avere un codice per regolare il regolatore del regolatore. Parliamo di livelli sovrapposti di complessità finalizzata. Quando si costruiscono le proteine, ovviamente c'è un codice per sapere quali segmenti della proteina assemblare successivamente. Ma ci sono anche istruzioni su quanto velocemente o lentamente debba essere schiacciato l'amminoacido successivo. Questo per controllare il ripiegamento delle proteine. Se una proteina appena formata non viene ripiegata correttamente, andrebbe sprecata o, peggio, potrebbe essere tossica e ucciderti. E c'è di più. A volte una stringa di DNA può trasportare un messaggio se letta in un verso ed un messaggio totalmente diverso se letta nell'altro. Come se Lincoln, leggendo il discorso di Gettysburg al contrario, trovasse le istruzioni su cosa voleva per pranzo. Scrivere un discorso palindromo è molto, molto difficile. La stessa stringa di DNA che codifica per una proteina contiene anche le istruzioni su quando costruirla, come se la prima lettera in ogni terza parola del discorso di Lincoln formasse le istruzioni sul quando e dove andava pronunciato il discorso. In più, il DNA non viene letto un carattere alla volta, viene letto attraverso una finestra tre caratteri alla volta. Se spostiamo la finestra a metà tra due triplette, possiamo scappare in un messaggio funzionale completamente differente. Immagina se il discorso di Gettysburg contenesse un altro messaggio segreto che emerge spostando lo spazio di due lettere. Sono quattroventenni e sette anni che... diventerebbe. Sono quattroventenni e tannikhe. E se provassimo a spostare lo spazio di una lettera? Ehi, c'è un messaggio. Long story short è il massimo e dovreste iscrivervi. Wow, grazie Lincoln. Sei un mito totale per averci pensato 160 anni fa. Il DNA è talmente stipato di informazioni che le stesse parole, informazione o codice appaiono limitanti per descriverlo. Obiezione, ma può accumularsi nel tempo. Stiamo parlando dell'origine della prima forma di vita che non era complessa come quella attuale. La vita è iniziata in modo molto semplice. Le informazioni si sono accumulate lentamente in milioni di anni attraverso l'evoluzione chimica, la replicazione, gli errori casuali, il tutto filtrato dalla selezione naturale, come affermato in questo paper 40 years of in vitro evolution. Ma ci sono cinque problemi. Le informazioni non si possono accumulare perché... Primo, l'evoluzione chimica non può nemmeno iniziare. Le molecole che immagazzinano informazioni non si autoreplicano naturalmente. Ci sono molte proprietà della chimica e della fisica ben conosciute che contrastano l'idea di un biopolimero autoreplicante formatosi naturalmente. E se non si può replicare, non può accumulare informazioni. Ogni ipotetico processo di autoreplicazione richiederebbe informazioni significative anche solo per iniziare. Secondo, l'autoreplicazione richiede un elevatissimo grado di precisione, un'accuratezza del 99.9% per poter produrre l'accumulazione. Gli esperimenti in laboratorio non si avvicinano nemmeno lontanamente a questo livello. Terzo, le cose scadono costantemente. Non puoi conservare una piscina piena di latte per un lungo periodo di tempo. Avere più tempo non ti aiuterebbe affatto perché il latte va a male. Devi farlo in meno tempo. Questo punto non è evidenziato mai a sufficienza. Il tempo non è amico della abiogenesi, è il nemico. Per la quarta e quinta ragione dobbiamo capire che l'informazione richiesta per la vita va molto, molto più in profondità di una semplice stringa di lettere. Parliamo di livelli su livelli su livelli di complessità informativa che sono unici per l'informazione nella vita, anche nelle più semplici forme di vita. Quarta ragione per cui l'informazione non si può accumulare in lunghi periodi di tempo. L'informazione nella vita cambia il materiale stesso su cui è scritta. Come spiegano Paul Davis e Sarah Walker, i sistemi biologici sono peculiari perché l'informazione manipola la materia su cui è istanziata. Immagina che le parole del discorso di Gettysburg, una volta scritte come inchiostro su carta, provochino il ripiegamento del foglio in un origami tridimensionale a forma di Abramo Lincoln. Sorprendentemente il codice della vita funziona così. Per esempio, l'informazione contenuta in alcune molecole di RNA può rilevare se questo RNA è necessario e se non lo è, si farà a pezzi da solo. Il DNA contiene informazioni autoreferenziali. Può percepire di avere due esemplari di un certo gene e decidere di averne 100. Può modificare il numero di geni immagazzinati al suo interno. Pazzesco. Quinto, le informazioni non si possono accumulare perché il codice della vita non è centralizzato solamente nel DNA. Pazzesco ma anche ovvio. Il DNA non può fare nulla da solo. Non può neanche replicarsi da solo. Può solo stare lì fermo. Le informazioni necessarie per la vita sono sparse in varie parti della cellula, completamente dipendenti l'una dall'altra per la propria sopravvivenza. Questo crea così tanti paradossi stile è nato prima l'uovo la gallina da lasciare di stucco. Il DNA non può fare nulla senza RNA e proteine. Le proteine non possono esistere senza DNA ed RNA. L'RNA viene dal DNA tramite l'aiuto delle proteine. Ti servono tutti i pezzi in una volta sola. Di nuovo Paul Davis e Sarah Walker. Il modo in cui l'informazione scorre attraverso e tra le cellule e nelle strutture subcellulari è piuttosto diverso da qualsiasi altra cosa osservata in natura. Per esempio il DNA non contiene l'informazione per costruire una membrana cellulare, solo informazioni aggiuntive. L'informazione che ha dato origine alla prima membrana cellulare invece è stata trasmessa di generazione in generazione da membrana a membrana aggirando il DNA. La cooperazione tra le fonti di informazione e la vita è ereditata, trasmessa di generazione in generazione. Tutte le differenti connessioni necessarie tra queste parti non sono contenute nel DNA, semplicemente esistono già e sono state tramandate. Per non parlare del fatto che ci sono molti altri codici della vita, non solo il DNA, ne riparleremo nei prossimi video. Ricapitolando, l'informazione nel DNA rientra in ciò che la natura può aver prodotto oppure no. Processi naturali non guidati non generano barzellette o discorsi, cose che superano le possibilità della natura. Non c'è alcun dubbio. Se vedi qualcosa come il discorso di Gettysburg, capisci immediatamente che qualcuno l'ha prodotto. Anche se non abbiamo mai visto l'autore, anche se non sappiamo niente di lui, un autore deve esistere. Le informazioni necessarie per la più semplice forma di vita non sono nemmeno lontanamente assimilabili alle barzellette e vanno ben al di là dei discorsi. Cosa fare quindi? In molte aree di indagine, gli scienziati devono decidere se processi naturali o una mente intelligente spieghi meglio le loro osservazioni. Gli archeologi esaminano i manufatti sepolti per determinare se sono il frutto di processi naturali o di una mente creativa. Queste sono punte di freccia o semplici rocce. Il medico legale indaga sulle morti per determinare se sono causate da processi naturali come la vecchiaia o per mano di una volontà umana, omicidio. Il SETI cerca segni di intelligenza nello spazio. Gli scienziati dovrebbero rimanere imparziali nel decidere tra processi naturali e cause intelligenti. Eppure, quando si tratta dell'origine della vita, prendono solo in considerazione le spiegazioni naturali. Pensarla diversamente è severamente vietato. Non sarebbe meglio seguire le evidenze e la scienza dovunque ci conducano piuttosto che seguire le presupposizioni e le preferenze degli scienziati? Grazie per l'attenzione.